Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli ha rivelato alcuni dettagli della sua vita, tra i quali anche una violenza subita. È stata poi anche azzannata al collo da un cane. Nel 2004, quando aveva solo 10 anni, Nicole è stata azzannata da un cane al collo e ha rischiato quasi di morire. Si è salvata solo perché è riuscita a difendersi e ad allontanare l'animale. Il recupero non è stato facile e la tronista ha dovuto lasciare il suo sport preferito, la pallavolo. L'amore e la violenza da lì ha iniziato a reagire in maniera ermetica, a nascondere le emozioni, a gestirle per non far vedere agli altri come stava realmente. Poi è arrivato l'amore, quello che nell'età adolescenziale si pensa possa essere quello di tutta la vita, ma per lei non è stato così. Nella giornata di ieri è andata in onda la scelta di Nicole Santinelli, che ha scelto Carlo. La tronista gli ha confessato. Quando sono con te mi sento protetto in quel tuo sguardo. Penso di aver trovato l'uomo che speravo e sognavo.